Diciamo questa coroncina, prima cosa dire grazie al Signore, perché era un grande dono che ieri Anna ha ricevuto a Gesù nel cuore. E veramente anche questa celebrazione, ricordiamoci a tutte le persone che hanno partecipato. Abbiamo anche le famiglie, ma specialmente la vostra famiglia, è tutta la vostra, che il Signore vi unisca. Come hanno potuto notare, unione è una cosa più importante, diventa un po' difficile camminare. La Saint-Cherber, che forse io con voi faccio questa, diciamo, preghiera familiare così stretta, prima dei nostri celebrazani che ci sono in attesa. Ma affido a voi, affido tutta la struttura, alle persone qui. Qualche volta mancanza proprio dell'amore verso il prossimo. Preghiamo con tutto il cuore. Moi Drodzy, tu ci sia i w tym miejscu, w szczególny sposób, kiedy są reliquie św. Jana Pawła, św. Ojca Szarpela. Dziękujemy za ten dzień wczorajszy, za I Komunię Święto Ani. I w intencji rodziny tej, proszę mówić Ciecio. A za nimi i za tutti, którzy są. I prosimy w tej gorące, Bożego Miłosierda, za każdą rodzinę. Allora preghiamo anche per ogni famiglia, ogni persona, che viene qui a pregare. Agragniamo 18 settembre. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo regno. Venio il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Per la sua dolorosa passione. Ammi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Ammi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Ammi misericordia di noi e del mondo intero. Ammi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo forte, santo immortale. Ammi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale. Ammi misericordia di noi e del mondo intero. O santo e l'acqua, che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia di noi e del mondo intero. Anche nella chiesa, corpo domino, risotto, ma affidiamo anche tutte le intenzioni a questi santi. San Giovanni Paolo II, che erano i santi della misericordia, che hanno portato l'amore di Gesù. Ma loro sono già con Gesù, in paradiso. San Giovanni Paolo II, che erano i del mondo intero di Gesù, in paradiso di Gesù, in paradiso di Gesù, in paradiso di Gesù, in paradiso di Gesù. Allora, anche questa benedizione è per la novena, per San Charvel, che inizieremo 8 settembre. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica, Dio nipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. San Charvel, prego per noi, San Giovanni Paolo, prego per noi, San Agosti, prego per noi, tutti i nostri santi, pregate per noi. Facciamo il canto per Maria, perché loro hanno andato a lei. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Io sono stato a benedire casa a Graniano, è una casa di miei familiari, ma uscendo da casa ho incontrato la signora che lavora qui, ma la signora da Ucraina è ortodossa, ma suo figlio è sacerdote ortodossa. Allora Benedetto, grazie che posso parlare anche in Ucraina, nel senso, lei poteva sentire anche la sua lingua, parola, ma lei ha donato tutto taccoi. A lei dice che Michele Arcangelo Santo deve defenda tutta la Italia tutta la famiglia. Moi drodzy, błogosławiłem dom tutaj w Graniano, mieszkanie i wychodząc, ta pani sprząta jest z Ukrainy i mówię, skąd jesteś? A ona mówi, z Ukrainy, prawosławna ale mówi, że mój syn jest księdzem a ja się zatrzymałem, by ją pobogosławić i dzisiaj całowała litwę świętego Szarbena, świętego Janakona a podarowała ten obraz świętego Michalana Anioła aby chronił nas w Italii, nas i wszystkich Amen Damy te pożegnanie w imię Adca i Syna i Ducha Światową Amen Dziękujemy Tobie Możemy na ukraińsku mowę razem Dziękujemy Tobie za spasienia rabi sporynnia za te siostrza stiadał mnie grazie, grazie i Signore per tutto quello che Tu mi hajtolato Dziękujemy Bóg zaprosi przepraszam, te słowa były dziękujemy Ci Panie dziękujemy za wszystko co od Ciebie otrzymujemy Dziękujemy 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 Dziękujemy